bentornati salve a tutti seconda puntata mike winchell il quarterback di olemis 2 a 2 torniamo appena dopo la batosta il 47 a poco contro il george bulldog adesso cerco di migliorare un po le abilità vedete che il ragazzo comunque ha un overall per esempio sulle palle lunghe di 88 cioè non è proprio sto fenomeno considerando che un anno da freshman un offense che non conosce si gioca al college non all high school non è che all high school questo ragazzo abbia fatto sfacelli però è un a un buon braccio possiamo dirlo qualcosa di promettente c'è insomma sì oppure semplicemente 4599 punti esperienza perché ci ho 14 mila attacca mi compro su dei bus a poi io sono contrario all'acquisto dei bus per la partita quindi per la singola si preferisco giocare sul lungo sulla carriera in fondo sono al primo anno diciamo che posso arrivare fino al segnoia questa è la partita comunque contro il freshman state bulldog dove olemis è favorita leggermente ma viene comunque lo ricordiamo da una partita con 47 a 7 se non sbaglio ed è in trasferta sì quella in casa con in casa il pubblico amico ha sconfitto con georgia bulldog adesso si va addirittura in trasferta on the world come dicono quelli che stanno in inglese quindi no io e come vedete non è facile giocare dopo una battosta del genere anche con la squadra sulla carta più debole comunque dov'è un clima del genere insomma in settimana c'è stato chi ha detto che ragazzo non era adatto non aveva il braccio che l'offense faceva schifo tutte le giorni sicuramente osservatissimo sì diciamo ecco subito con il festi immagini sulla 0 a 0 il ricordiamo che giochiamo col tempi da 5 minuti perché sennò ci stesse partire durato dei giorni già così già il pubblico c'è come sempre il tutto esaurito guardate come collassa ha subito un passaggio per ti di anticipiamo visto che è andato via il numero 5 è facilmente anticipabile insomma oltre a dargli 25 centimetri al cornerback che lo doveva marcare che con la presepti sì ma guardiamo un attimo il replay guardate guardate come collassa la linea 1 2 3 4 giusto il secondo prima di essere attraverso e notare vabbè se il 10 credo sia posto il cornerback e un nano bagonghi per questo credo che sia andato finita rimane difficile trovare il tempo trovare i compagni questa è la quarta partita sì la quinta c'è bene a quattro partite vi mostra che il braccio c'è un lancio 60 iati fate 1 su 2 per 60 iati per un td adesso un secondo e 11 alta tendenza di cui che possiamo raccontare mentre vediamo questa azione cerca spazio in mezzo e chiude il down un'altra tendenza spesso del suo allenatore che non ha grossa più luce del ragazzo è dare correre nei primi due down e poi se un terzo e 19 e questo non giova ragazzo no perché lo mette sotto pressione oltre a quella che già infatti guardate 3 su 11 la pressione no cioè ha delle medie veramente scandalose per un quarterback di questo livello soprattutto se bisogna capire se il ragazzo aspira alla nfl o semplicemente ottenere eccolo qui a ottenere una figura da roger rabbit come adesso notare il passaggio praticamente ha urlato ehi tu che sei lì e me che salta credo che voglia semplicemente studiare a questo punto ovviamente riprendiamo al secondo quarto sotto già di 10 punti dopo essere passato in vantaggio questa nutra l'ha imparata a colpire perché è la seconda volta che la colpisce quindi abbiamo capito che la corsa interna anche perché c'era una prateria praticamente un vuoto c'era almeno hanno qualcosa di cui festeggiare non so che cosa visto che perdono 10 in trasferto però sai in 4 su 13 per 94 yard un dd e un intercetto primo e 10 il secondo quarto si potrebbe ancora fare qualcosa guarda loro credo che possono rimanere in partita cioè non è chiudere siamo al secondo quarto ecco qui uno screen pass il ragazzo la squadra c'è a momenti è come se fosse in fase di rebuilding ricostruiamo partendo da ragazzi 19 anni è una ricostruzione a lungo termine però sì quello che quest'anno forse speravano che il ragazzo guardate adesso un secondo e 18 il ragazzo li portasse più lontano di quello che dopo le due vittorie inizio stagione poi c'è stato il risveglio con la realtà vediamo un po' esatto non è che l'hanno caricato eccolo qui roger rabbit in azione dicevo non è che l'hanno caricato troppo ecco possibile può essere che il ragazzo regala responsabilità poi ti fa questi numeri qui ti fa spondare in un baratro c'è poco da fare due intercetti anche se hai raggiunto percettato il noial e tu sai perdi 24 a 7 sì beh non è bellino eh sì soprattutto quando sei a metà tempo e hai già mollato due intercetti immagino cosa possa succedere negli sfogliatoi ecco poi il ragazzo trova in tripla copertura un numero come questo ripeto fortuna bravura sembrare il Peyton Manning e poi sembrare all'improvviso il peggior Tim Tebow ma peggiore assai quello dell'NF e non quello del college guardate è arretra un'ora per l'ora cosa fa? uff pesca quest'altro e poi guarda fermato sulla via delle 5 yard ha uno sputino dal Tim Tebow guardate qui legge il taglio interno io credo semplicemente che debba essere più tranquillo più sereno guadagnare quella che si chiama consistenza ha lanciato 11 per 24 un 50% circa per 200 e passa di yard cioè voglio dire il braccio c'è ma questo l'abbiamo visto purtroppo qui sul 20 a 34 c'è poco da fare voglio dire a parte che cercare vedete di nuovo per quanto poi questo lì si deve riconoscere fino alla fine non molla mai sì sarebbe gradito il fatto di impedire di evitare di mollare poi ecco qui sono i frasi firmati la partita due intercetti che taglierebbero le gambe a chiunque porti a casa l'ennesima sconfitta 34 a 27 contro Fresno State di cosa vogliamo parlare quando è rifavorito all'inizio sì certo poi ecco qual è il play of the game guardatelo l'intercetto hai urlato ehi tu che passi da quelle parti io mandogli il pallone e per forza questa è la giocata della partita qui cambia perché è sotto solo di due possesse qui scavi una voragine vai sotto 24 a 7 quindi poi ciao e arrivederci sì purtroppo queste sono cose di cui tenere conto e che il ragazzo sente benissimo sì difficile riprendersi da una situazione così ma è imperativo farlo soprattutto se credo che la prossima settimana ci sarà Alabama in casa e non credo che la Crimson Tidy sia la squadra contro la quale si possa riprendere dopo aver soffetto probabilmente no sì guardate qui poi i numeri force fumbled ovviamente l'offensive line che il ragazzo si ritrova non è all'altezza infatti diciamo che non è che gioca di qualsiasi tipo questo poverino poi ci mette il suo quando lancia come Roger Rabbit questo è un altro numero questo sull'assalto poi prendo una manica di botte questi questi tegola la lunga spagano comunque ti finisce addosso 200 kg di essere umano che sai se fosse solamente per l'ugorio fisico alla fine noi abbiamo la certezza che ragazzo si possa riprendere ripeto non sarà la prossima partita perché se non ricordo male veramente la Crimson Tidy quindi sarà di nuovo un bagno di sangue probabilmente sarà vediamo quando è capace di incassare fino a che punto sì perché la verità è capire quanto è capace di incassare e di continuare a fare questi numeri il problema è tutto lì c'è la banda in fondo quella che piace a te non mi piace tanto la banda il problema è tutto lì non farsi comunque scoraggiare per quanto sia molto difficile è ovviamente piuttosto complesso soprattutto perché anche perché l'ambiente non lo aiuta in questo momento l'ambiente poi non lo aiuta probabilmente speriamo di fare un'altra stagione sono comunque le miss ricordiamo che qui ha giocato la gente con Miley Manning non esattamente l'ultimo dei pellegrini della terra noi vi salutiamo con queste immagini e vediamo appuntamento alla prossima puntata ciao 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 ciao